3, 2, 1, vai! Tutto 10! Ho fatto un po' a riletto, signori, eh! Porco Dio! A parte che in 20 secondi non lo vedevo un po' da un po', eh! Eh, non avete fatto nessun padre! Io è impossibile, ho fatto in 20 secondi! Oh, avete finito detto, ho messo 43 secondi! E sei stato il primo! Sono tempestato! Eh, cazzo! Poi invece sì, ho 43 secondi, eh! Adesso ancora 10! Adesso ancora 10! 3, 2, 1, vai! Sempre 10! Allora muovi il culo a correre! Tronzetta! Facciamo! Ora ci siamo! Più stretti i piedi, Leo! C'è una onta per tutti i meridionali che sono qua, l'Italiano! C'è una onta per tutti i meridionali che sono qua, l'Italiano! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! Non mollare il falc, l'expreso! Non lo mollare! Non con la schiena, Leo! Non con la schiena, Leo! secondo, tutto, 12! meille! VIO! VIO! bravo stendi bene le gambe e datti lo slancio vai tutto 14 ultimi due minuti 3 2 1 vai grazie ecco lo schulter ma che vuol dire ultimo minuto in assoluto 3 2 1 vai molto bene diamo leo anche se l'ultimo devi svolgere in un minuto non è che puoi rimetterci in 90 secondi non è di nemmo